Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono sempre Aaron Blaze e come vedete dalla scritta alle mie spalle Oggi andremo a parlare della versione 1.7 Sì lo so, la 1.6 è appena uscita Non ci sono ancora né snapshot né tantomeno aggiornamenti della 1.7 E allora vi chiederete perché ne vado a parlare in questo video Il motivo è semplice Nella rete già girano diverse informazioni e anticipazioni riguardo la futura 1.7 Che già si preannuncia come una versione che farà il culo se mi passate il termine alla 1.6 E quindi vi andrò a spiegare quelli che saranno i probabili contenuti di questa nuova versione Sperando di far alzare anche voi di molto l'hype come è già successo a me Quindi che dire come prima cosa Il tema della 1.7 O meglio il probabile tema Se devo darvi una percentuale probabilmente al 90% sarà quello La 1.7 sarà la biome e ocean update Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sarà l'aggiornamento dei biomi e dell'oceano soprattutto Le fonti da cui ho tratto questa notizia Ve le darò come dirò anche a fine video Tutte nelle descrizioni Quindi non mi invento niente State tranquilli Se volete verificare avete tutte le fonti nelle descrizioni Per cui da dove nasce questa idea di fare un update specifico sui biomi? Allora come molti di voi sapranno di già Da un po' di tempo la Mojang ha intrapreso una strada di aggiornamenti tematici Per cui c'è stato l'aggiornamento della redstone Cioè l'1.5 C'è stato l'orce update che è la 1.6 E prima ancora la 1.4 era stata la scary Scary e qualcosa update Non mi ricordo bene Ma comunque si hanno intrapreso questa strada degli aggiornamenti tematici La 1.7 sembra essere l'aggiornamento dei biomi Questa idea nasce dal Minecon del 2012 Che vi linkerò anche in video così potete verificare Cioè vi linkerò in descrizione In quell'evento vengono fatte delle domande Al team di sviluppo riguardo un futuro aggiornamento sui biomi E anche questo bioma in particolare dove sono Cioè le piane ghiacciate che sono particolarmente vuote E veniva risposto che uno dei futuri aggiornamenti sarebbe sicuramente Stato incentrato sui biomi Ed è una notizia recentissima che in un live che c'è stato su Twitch E vi linkerò anche quello Jeb ha parlato proprio di questo tema Come tema per la 1.7 Ha detto che probabilmente Sarà un aggiornamento dedicato ai biomi Quindi partiamo col dire che cos'è un bioma Per chi non lo sapesse Il bioma altro non è che Un tipo di ambientazione Quindi per esempio la piana ghiacciata Per esempio vediamo intorno Allora lì c'è la foresta La palude, il deserto La pianura, le colline estreme Sono tutti biomi Quindi un aggiornamento sui biomi Andrà a ritoccare tutte queste ambientazioni E possibilmente ad aggiungerne di nuovi O di nuove Per dirlo meglio Quindi partiamo col parlare dell'oceano Se avete mai visto la mappa di gioco In grandita a dismisura Quindi visto la mappa proprio dall'alto Dall'altissimo Saprete che la mappa è composta Da queste sorte di regioni Continenti che accumulano tutti i biomi insieme E attorno a queste c'è solo l'oceano Sconfinato L'oceano è il bioma più grande di tutto il gioco Ma le dimensioni sono qualcosa di veramente incredibile Cioè magari si estende anche per 10.000 blocchi Tra una terra ferma e l'altra E nel mezzo di questo oceano L'unica cosa che si trova sono le isole dei funghi Un po' qua e là E ogni tanto, raramente Le si possono trovare Non c'è nient'altro Per questo motivo la community di Minecraft Ha più volte lamentato questo problema Dell'oceano che è vuoto Che non ha niente Non è esplorabile Non ti dà nulla E la Mojang Questo lo sa bene Tant'è che hanno deciso Appunto di soddisfare le richieste della community E con il prossimo update Di concentrarsi particolarmente sull'oceano Quindi Che cosa ci possiamo aspettare Di nuovo nell'oceano Una prima particolarità nuova Che potremmo aspettarci Che è già presente in una mod È per esempio la barriera corallina Adesso Dicendo questo Entro proprio Nell'ambito delle pure speculazioni Ed è un'idea mia Senza prove E non è mai stato detto niente A riguardo Però vi voglio lo stesso parlare Di questa possibilità C'è la barriera corallina Che potrebbe arricchire di molto I fondali Che ad oggi sono veramente brutti Sono fatti solamente di argilla E sabbia e terra E sono inguardabili E non c'è nessun motivo Per esplorarli Quindi Ci potrebbe essere Questo ritocco estetico Ma soprattutto Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare Dei mob Perché le sole squid Ad abitare l'oceano È molto poco Quindi Magari anche Un mob tratto Dalla Mocreaturs Come è stato per i cavalli Magari possiamo aspettarci Finalmente pesci O possiamo aspettarci Un mob ostile Quindi Mob ostile Nell'oceano Quale potrebbe mai essere? Direi Assolutamente Lo squalo Lo squalo sarebbe Sicuramente La possibilità Numero uno Perché Ad oggi Se noi esploriamo l'oceano Non c'è assolutamente Nessun pericolo L'aggiungere le squali Darebbe quel tocco Di avventura in più Mentre Per quanto riguarda I pesci Andrebbero Anche incrementare Un altro Fattore Del gioco Che gli sviluppatori Hanno detto Che vorrebbero migliorare Vale a dire La pesca La pesca Ad oggi è molto noiosa E Non funziona Neanche così bene Ci sono bug Vari Come in tante altre cose Del gioco Mettere Dei pesci fisici Quindi Che possiamo Vederli Nell'aghetto Potrebbe Aggiungere Una nuova tipologia Di pesca Di cui Avevamo parlato Una volta Di Innerbone Che potrebbe essere Quindi la pesca Con La lancia Quindi immaginiamo Per esempio Una lancia Craftata Con Dei bastoni E la selce Come punta Immaginiamo Di lanciarla Ai pesci Per Infilzarli E in questo modo Avere un tipo Di pesca alternativa Anche questa È una speculazione È un'idea Ma C'è di vero Che la Mojang Sta veramente Pensando A migliorare Anche la pesca Quindi Questa miglioria Potrebbe arrivare Assieme A quella Dell'oceano Che sarà Probabilmente Il focus Principale Del prossimo Update Detto questo I biomi Quindi Detto Dell'oceano Che è uno Dei biomi Fondamentali Da rivisitare Ce ne sono Tanti altri Come per esempio La piana ghiacciata Dove siamo In questo momento Che è particolarmente Vuota Ed esolata E Praticamente Inutile Anche da esplorare Potrebbe essere Migliorata Magari un dungeon Che ne so Un igloo Come dungeon Sarebbe una cosa Molto carina E così come La piana ghiacciata Anche molti altri Molti altri biomi Potrebbero essere Migliorati Facciamo un esempio Nella 1.6 È stato Modificato Il bioma Del deserto Vale a dire Hanno tolto Le pozze d'acqua Che davano Molto fastidio E in questo modo L'hanno reso Molto più arido Con una Piccola miglioria Ecco Questo è l'esempio Di ciò Che potrebbero fare Nella 1.7 Cioè Delle piccole migliorie Qua e là Nei vari biomi Per renderli più realistici E anche più godibili Detto di ciò A mio parere Sarebbe necessario Anche un miglioramento Della generazione Del terreno Quindi Come mi sono più volte Lamentato Per esempio Il deserto Vicino alla taiga Oppure peggio Il deserto Vicino alla piana ghiacciata È una cosa È una cosa Inguardabile Perché Non ha senso Trovare questi due Biomi vicini Si potrebbe Magari Fare un terrain Update Che gestisce meglio Biomi E li posiziona In maniera Più realistica Ma questa È una mia idea Ancora una volta Una cosa Che Probabilmente Sarà un contenuto Della 1.7 È invece Un nuovo bioma O dei nuovi biomi Adesso non so Quanti ce ne possiamo Aspettare Però Penso che Se viene fatto Un update Sui biomi Sicuramente Almeno uno nuovo Lo avremo Le possibilità Sono veramente infinite Come ci mostrano Varie mod C'è per esempio Il bioma Della mesa Che sarebbe Questo deserto Soprattutto Stile americano Quindi immaginatevi Deserti rocciosi Che vediamo Nei film del far west E con gli indiani Oppure Altri biomi Potrebbero essere Non so La savana O dei biomi tropicali Particolari Il bioma Col vulcano Ce ne sono Veramente tante Di possibilità E di opportunità Da sfruttare Mi aspetto Come minimo Un nuovo bioma E di questo Jeb Nella Nella sua Intervista Su twitch Ne ha parlato Per cui È lecito Aspettarceli E un'altra cosa Che ha detto È che Nel caso Verranno inseriti Nuovi biomi Probabilmente Ci saranno Anche nuovi dungeon Perché è molto divertente Esplorare i dungeon Lo sanno benissimo La mojang E si divertono Anche loro a crearli Quindi quando parliamo Di dungeon Parliamo per esempio Della piramide Nel deserto O della struttura rocciosa Che si trova Nella giungla Piena di trappole Quindi aspettiamoci Magari anche Qualche nuovo dungeon In un eventuale Nuovo bioma Quindi per ricapitolare Quanto detto Fino ad ora I biomi E soprattutto L'oceano Saranno il focus Principale Della 1.7 O almeno Questa è l'idea Che gira Nella testa Di Di Jeb E compagni Va detto anche Che Si occuperanno Dei nuovi contenuti Soprattutto Due sviluppatori In particolare Della mojang Vale a dire Groom E dinner bone E c'è anche da dire Che dinner bone Non ama particolarmente I contenuti Riguardanti L'oceano Quindi aveva detto In passato Che non se ne sarebbe Occupato lui Nel caso Ma Credo che Cioè lui ovviamente È una persona professionale Quindi se Gli imporranno Di fare questo lavoro Lo farà Ma credo che Comunque sia Se ne occuperà Nel caso groom Oppure Lo stesso Jeb Quindi aspettiamoci Biomi E soprattutto L'oceano Migliorato Più ricco Più 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 vivo Aspettiamoci questo Come principale Focus Della prossima Del prossimo Aggiornamento Della 1.7 Ora ragazzi Detto questo È arrivato il momento Di dirvi E spiegarvi La vera bomba Che è emersa Da questa intervista Su Twitch Quindi vi consiglio Di andare Nei vostri box Nelle vostre cantine Cercare la cassa Degli attrezzi E prendere Il paio di pinze Più Più belle E Più performanti Che avete Perché questo argomento Va preso con le pinze Va preso con prudenza Parliamo di Red Dragons Parliamo di Draghi rossi I Red Dragons Sono stati Per la prima volta Citati Dal Grande Notch Nel lontano Update Segreto Del venerdì Numero 8 Cosa ha detto Notch Ha detto che Una volta che Il gioco sarebbe Entrato nella Nella fase Ufficiale Quindi nella 1.0 Dopo L'Ender Dragon Avrebbe voluto Aggiungere Anche questi Red Dragons Quindi Dei draghi rossi Che a differenza Dell'Ender Dragon Avrebbero potuto Anche posarsi A terra Ed essere Cavalcabili Domabili Quindi Purtroppo Come sappiamo Notch Non si occupa Più del gioco Ma se ne occupa Jeb Che adesso È il leader Anche Jeb Ha parlato Dei Red Dragons E ha detto Che Che lo sa Che Notch Gli aveva promesso La community E che si sarebbe Impegnato A implementarli Prima o poi Anche se non sapeva Bene come Da quel momento C'è stato Un vuoto Assoluto Quindi La community Ne ha parlato A più riprese Ma assolutamente Niente di Di concreto Se non che Nella intervista Che ho citato Più volte Jeb Ha detto Una frase Che ha fatto Rizzare I capelli E non solo A molti Membri Della community Di minecraft Vale a dire Ha detto Stiamo Riconsiderando I draghi Ora Non ci è dato Sapere Cosa intendesse Ma Quando si parla Di draghi È ovvio Che non si parla Dell'ender dragon Solamente Perché l'ender dragon È un drago solo Lui parla Di draghi Al plurale Per cui È legittimo Pensare Che stia parlando Dei draghi rossi Dei famosissimi Red dragons Ora Io non penso Che verranno Mai inseriti Nella 1.7 Perché se È l'update Dai biomi I draghi È qualcosa Di troppo grande Per essere aggiunti In un update Che già di suo Ha molti contenuti Da presentarci Però Per Per giustezza Ne parliamo Comunque In questo video E non credo Che saranno mai Giunti Red dragons Perché Perché Il tempo La tempistica Con cui ne ha parlato Jeb Mi fa pensare Per cui Nella 1.6 È stato Appena inserito Un mob Tratto da Una famosa Mod Quindi La Moa Creatures E come sappiamo Oramai Il cavallo È stato tratto Da questa mod Allo stesso tempo Il creatore Di questa mod Vale a dire Dottor Zark Se così si pronuncia Ha creato Un altro mob Che Prende Diciamo L'eredità Spirituale Dei cavalli E aggiunge Veramente Un contenuto Pazzesco A questa mod Vale a dire I wyverns Che altro Non sono Che dei draghi Ora Visto che Nella 1.6 Sono stati Introdotti Dei mob Presi da Uno a mod È lecito Pensare Che Probabilmente Se Jeb Parla proprio In questo momento Dei draghi Forse Sta pensando Di introdurre Nel gioco Quindi Nella Nella versione Vaniglia Sta pensando Di introdurre Anche quest'altro Mob Sempre preso Dalla Mock Creators Quindi I wyvern Che cosa Sono Questi mob Che in italiano Si chiamerebbero Viverne Che cos'è La viverna Altro non è Che un rettile Alato Quindi molto simile A un drago Che si differenzia Dal drago Per pochi semplici Fattori Prima di tutto Non sputa fuoco E la sua arma Più letale Sarebbe Uno spuntone Presente sulla coda Che permette Di avvelenare Le sue prede Avvelenarle Mortalmente Oltre a questo La viverna Non ha Le zampe anteriori Ma ha solo Le zampe posteriori E le ali Le ali Che funzionano Poi anche Come delle zampe anteriori Quindi Detto di Che cos'è Mitologicamente La viverna Se volete farvi Un'idea Di come può essere D'aspetto Pensate ai draghi Di Skyrim Quindi di The Elder Scrolls V Famosissimi draghi Che altro non sono Che viverne Per l'aspetto Se ci avete mai fatto caso Infatti Non hanno le zampe anteriori Quindi detto ciò Dottor Zark Ha pensato bene Di introdurre Nella sua mod Queste viverne Dei mod Che Scusate Dei mob Sto facendo una confusione Pazzesca Dei mob Che sono domabili Che sono presenti In una loro Specifica dimensione E che sono presenti In varie tipologie E in varie colorazioni Un po' come I cavalli Per quanto riguarda Le tipologie E i colori Quindi Che stia balenando In mente A Jeb Di accaparrarsi Anche questo mob Dalla Mo Creators Probabile Perché se Ne ha parlato Proprio adesso Di draghi Proprio adesso Che sono uscite Le viverne In questa famosa mod Qualcosa sotto Ci potrebbe essere Però è tutto Da vedere Ed è soprattutto Da vedere Se Dottor Zark Vorrà vendere Anche le viverne Alla Mojang O se Se le terrà strette Per la sua mod È tutto Da vedere Questa Come Come ho detto Anche in precedenza È una mia idea È una speculazione Ma c'è di vero Che Jeb Ha parlato Dei draghi Ha detto Che stanno Riconsiderando I draghi Quindi questa È una cosa Molto seria E che ci dobbiamo Segnare Per le future Per i futuri Aggiornamenti Ripeto Non me le Non mi aspetterei Nessun drago Per la 1.7 Perché Sarà dedicata Ai biomi E all'oceano Soprattutto Però magari Nella 1.8 In qualche futura Versione Potremmo anche Aspettarceli Quindi forse Finalmente Siamo vicini All'arrivo Dei tanto Agognati Draghi In questo Fantastico gioco Detto di questo Contenuto Importantissimo Parliamo ora Di un altro Contenuto Che a mio parere È una novità Bellissima Ed è un'idea Di Dinnerbone Vale a dire Le stagioni La sua idea È di creare Nel gioco Delle stagioni Che si ripetono Ad un ciclo Di 20 giorni Per cui Ogni stagione Durerebbe 20 giorni Ovviamente Del gioco Che cosa Potrebbero comportare Queste stagioni La prima cosa Sicura È la durata Della giornata È la durata Della notte Per cui Così come La realtà Quando cambieranno Le stagioni Avremo giornate Più lunghe Quindi per esempio L'estate Ha la giornata Più lunga Mentre Nelle stagioni Fredde Quindi per esempio Di inverno Avremo Le notti Più lunghe Quindi immaginatevi Che problema Sarà passare L'inverno Che sarebbe Un inverno Alla Game of Thrones A questo punto Che problema Sarebbe Passarlo in Minecraft Un inverno Con delle notti Rigide E lunghissime Piene di mob E di pericoli Dietro ogni angolo Quindi Cosa ci possiamo Aspettare Da queste stagioni Prima di tutto Dinnerbone C'è al lavoro E questo lo sappiamo E ce le possiamo Aspettare tranquillamente Per la 1.7 Perché è una novità Che andrebbe a fondersi Alla perfezione Con i biomi Perché questo? Perché le idee Che circolano Attorno alle stagioni Riguardano anche I biomi Da molto vicino Quindi per esempio Pensiamo all'inverno In una In un bioma Tipo la pianura O Una foresta Normalissima Potrebbe D'inverno Nevicare Così come succede Nelle taighe Sempre Che nevica sempre Come succede Anche nelle pianure Ghiacciate Al contrario Magari D'estate Nella taiga Non nevicherebbe più E magari Nella taiga Si asciugherebbe Nella taiga Si asciugherebbe La neve E avremmo finalmente Anche una taiga Senza neve Come molti Hanno sempre Sognato di avere Queste sono idee Che circolano Soprattutto tra i fan E soprattutto tra Tra le persone Più vicine A Dinnerbone Infatti Dinnerbone Ha chiesto Su Twitter Alla community Stessa Di dargli degli spunti E delle idee Interessanti Per sviluppare Questa idea Delle stagioni In Minecraft Altri spunti Interessanti Sono per esempio Per quanto riguarda L'autunno Gli alberi Con le foglie rosse Oppure gialle Come sappiamo Come molti di voi Sapranno In molte mod Che aggiungono Nuovi biomi Ci sono Le foreste Stagionali O meglio Le foreste Autunnali Che presentano Alberi con Foglie rossastre Arancioni Gialle Non ci sarebbe Più bisogno Di introdurle Perché a questo punto In autunno Le foglie Diventerebbero In automatico Rosse Oppure gialle Oppure arancioni E possiamo anche Immaginarci Le foglie Che cadono Dagli alberi E che si accumulano A terra Un po' Come la neve Quindi magari Dagli strati Di fogliame Nel quale camminare Nel quale Possiamo anche Rischiare di cadere Sarebbe veramente Una gran figata Allo stesso Momento E per lo stesso Motivo Si potrebbe pensare In primavera A degli alberi Fioriti Oppure In estate A degli alberi Che presentano Dei frutti Visibili Quindi magari Finalmente Le mele Le possiamo vedere Già sugli alberi Al posto che Essere droppate Misteriosamente A terra Quando spacchiamo Il fogliame E per lo stesso Discorso Magari D'inverno Degli alberi Privi di foglie Quindi solo Con i rami Questa idea Sarà più difficile Da implementare Però Immaginiamoci Questi alberi Spogli E se spacchiamo Per esempio Un blocco Di rametti Potremmo Potremmo ottenere Direttamente Dei bastoni Questa È un'idea Molto interessante Che circola Ovviamente Nulla di confermato Nulla di fatto Ma sono tutte Idee Che Dinnerbone Sta attentamente Valutando Per creare Questo nuovo Sistema Delle stagioni Sistema Che ripeto Io mi aspetto Nella 1.7 Perché Lo sta Lo sta già Valutando Da Da qualche mese Da quando Stava sviluppando La 1.6 E credo Che si fonda Benissimo Con la tematica Dei biomi Detto anche Delle stagioni Il resto Sono Sono cose Minori Ma molto Interessanti Quindi per esempio Per chi di voi Conosce Il Il pesce D'aprile Che ha fatto La Mojang Quest'anno Vale a dire La versione Farloh 2.0 Erano state Introdotte Molte cose Carine Che non Non si sono Più viste Quindi se Per esempio Il blocco Di carbone E' stato Aggiunto Dalla 2.0 O anche La modalità Ultra Hardcore E' stata Aggiunta Altre cose Come i tanto Agognati Vetri Colorati Non sono Stati Aggiunti Per quanto Riguarda I vetri Colorati Jeb ha detto Che stanno Provando A inserirli Nel gioco Il motivo Per cui Non li hanno Ancora Inseriti E' Un bug Molto Importante Vale a dire Quando si Posiziona Il vetro Davanti A un altro Blocco Trasparente Quindi per esempio L'acqua E il blocco Dietro Non si vede E questo E' un bug Gravissimo E proprio Per questo motivo Non possono essere Inseriti I vetri colorati Nel gioco Una volta Che sarà Risolto Questo problema Sicuramente Li vedremo Vedremo Anche questi Fantastici Blocchi Presenti Nelle nostre Partite Nei nostri Mondi Questo Non so Se sarà Per la 1.7 Probabilmente No Però Non appena Riusciranno A risolvere Il problema Di cui vi ho Parlato Sarà presente Altre Novità Che possiamo Aspettarci Non so Se per la 1.7 O se per il futuro Più lontano Sono per esempio Un nuovo sistema Per quanto riguarda Le skin Quindi la possibilità Di avere skin Con risoluzioni Maggiori Oppure skin Asimmetriche Quindi per esempio Il braccio sinistro Che potrà essere Diverso dal braccio destro E stesso discorso Per quanto riguarda Le gambe E Altra Novità Che ci dobbiamo Aspettare Per il futuro Prossimo E' la tanto agognata Mod API Io Non credo Che sarà Nella 1.7 Ma Sicuramente E' molto vicina Perché nella Nella 1.6 Sono stati introdotti Le resource pack E il nuovo launcher Che sono dei passi fondamentali Per la mod API Non so Quando ce la possiamo Aspettare Ma sicuramente L'arrivo di questa Tanto agognata API E' molto vicino Con questa Mod API Finalmente Potremmo gestire In maniera più semplice Le nostre mod Potremmo addirittura Fare un upload Della nostra Mod Personale Sul sito Della Mojang E gli altri utenti La potranno scaricare Non dal sito Ma bensì Dal launcher Stesso Dal gioco Stesso Quindi noi Entreremo nel nostro Gioco Avremo una Sezione Riguardante Le mod Dove potremo Navigare Tra le varie mod Presenti E create Dalla community E potremo scaricarle Direttamente dal gioco Senza bisogno Di Da installazioni Improbabili Quindi Detto questo Abbiamo parlato Di tutte le novità Principali Che sono emerse Finora Per la futura 1.7 E anche Per le versioni Future Oltre a questa Tutto ciò Che ho detto Non è campato Per aria Sono tutte cose Che potrete Trovare Intanto ho fatto Uno screenshot A caso Vabbè Fa niente Sono tutte cose Che potrete Trovare E verificare Nella descrizione Di questo video Infatti vi metterò Tutte le fonti Del caso Quindi verificate pure E constatate Che ho detto Solo verità Che tutto ciò Che ho detto È basato Su qualcosa Di reale Concreto Detto questo Un messaggio Ai visualizzatori Del video Che verranno Dal futuro Cioè Sicuramente Qualcuno Vedrà questo video Magari ad ottobre E dirà Eh ma questa Non lo so Per esempio Ehi ma i draghi Non sono stati inseriti Tu sei un bugiardo Perché hai parlato Di draghi Oh mio dio Chi gran bugiardo Karen Blaze No Non sono un bugiardo Ragazzi Semplicemente Ho parlato Di idee Di speculazioni Basate su Dei fatti reali Quindi su parole Che hanno detto Realmente E quindi Sono tutte cose Che ci possiamo aspettare Ma che non sono sicure Per la 1.7 Sono tutte probabilità Io vi ripeto Un'altra volta La 1.7 Sarà con tutta probabilità L'update Riguardante biome E soprattutto L'oceano Possiamo aspettarci Un nuovo bioma Come minimo Possiamo aspettarci Le stagioni Io sono quasi certo Che saranno In questo update E tutte le altre cose Sono possibilità Non è detto Che ci saranno Proprio nella 1.7 Probabilmente saranno In un futuro Più lontano Ma io Ve ne ho voluto Parlare lo stesso Perché comunque sia Sono notizie Immersi in questi giorni E mi faceva piacere Insomma Spiegarvele E raccontarvele Anche a voi Prima di chiudere Il video Parliamo di date Della 1.7 Non ci sono assolutamente Ancora date ufficiali Ma si può fare Una stima E vi posso dire Che i primi Snapshot Della 1.7 Probabilmente Usciranno ad agosto Mentre la versione in sé La vedremo Credo Verso ottobre Ottobre inoltrato Quindi Lo so che I tempi sono molto lunghi Non ci sono dati ufficiali Ve lo ripeto È solo una stima Che ho fatto io Basandomi Sulle scorse versioni Per questo video È tutto Io oramai Non ce la faccio più Sono senza voce Sono senza saliva Come al solito Vi invito A mettere Mi piace A condividere A commentare Ad aggiungere Preferiti Questo video Se vi è piaciuto Vi saluto Ci vediamo Al prossimo Video di aggiornamenti O al prossimo video Nel mio canale Di qualsiasi argomento A sottratti Un saluto Da Remblaze E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti